Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Francesco Siciliani in un nuovo video targato iPhoneItalia.com In questo video andiamo a scoprire iMyPhone U-Mate Pro un software per cancellare i dati in modo sicuro dai dispositivi iOS disponibile sia su Mac sia su Windows Iniziamo subito Questo software è piuttosto semplice da utilizzare ci permette di cancellare i dati in modo sicuro e permanente dai dispositivi e anche di risparmiare spazio cancellando i dati non più utilizzati La prima modalità appunto è proprio quella che ci permette di liberare spazio Il software farà una scansione del nostro dispositivo collegato via USB e ci fornerà un riepilogo dei file da poter eliminare insieme ovviamente allo spazio occupato dagli stessi In questo modo potremo capire e scegliere quali file andare a eliminare in modo tale da liberare spazio sul dispositivo e quindi avere innanzitutto maggiore autonomia col dispositivo ovviamente a livello di salvataggio dei file e dati e poi anche la possibilità di rimuovere la fastidiosa scritta che ci informa dello spazio rimanente esaurito Potremo anche andare a decidere di comprimere le immagini e di disinstallare le applicazioni Poi potremo andare a cancellare tutti i dati in modo permanente nel caso volessimo andare a vendere e cedere il nostro dispositivo oppure cancellare i file eliminati dal dispositivo quindi quelli che abbiamo già cancellato nel tempo e che ovviamente vogliamo andare a eliminare del tutto senza lasciare più tracce Dopo la scansione il nostro software ci permetterà di andare ad eliminare ogni traccia dei dati Peccato solamente per la lentezza nell'operazione però ovviamente poi una volta terminato il processo di quei dati non rimarrà più nulla perché verranno sovrascritti ancora potremo andare a cancellare i dati privati in modo tale da non limitarci solamente a quelli eliminati già in passato bensì analizzando tutto il dispositivo e cercando di capire quali sono tutti i dati da poter eliminare sul nostro device in questo modo potremo scegliere categoria per categoria cosa andare a rimuovere e cancellare ovviamente il tutto in maniera sicura Questo software quindi riesce a riscrivere i file in modo da essere sicuro di aver cancellato ogni traccia c'è da segnalare che tutti i processi però non sono velocissimi e che le cancellazioni richiedono la disattivazione di trovo il mio iPhone nonché della disattivazione dei backup crittografati nel caso siano attivi insomma ci si poteva aspettare una reattività un po' maggiore da un software del genere perché comunque non sono operazioni complicatissime ma le funzionalità messe a disposizione sono utili e vengono comunque eseguite correttamente comode ovviamente le preview che ci permettono di capire che cosa stiamo eliminando durante il processo il software come stavamo dicendo è disponibile su Windows e su Mac al momento è disponibile a un prezzo promozionale di 19,95 dollari ovviamente i prezzi potranno variare nel tempo per tutte le informazioni relative vi alleghiamo il link del nostro articolo su iPhoneItalia.com lì troverete ovviamente tutti i link all'applicazione, agli sconti eccetera da Francesco Siciliani quindi è tutto io vi ringrazio per aver seguito questo video noi ci rivediamo con i prossimi video sempre sul nostro canale ovviamente se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale e nulla vi auguro un buon proseguimento di giornata a presto a presto grazie a tutti